Modena, Treviso, Milano, Romero, Roma con la maglia dell'Italia, 292 volte, un bronzo dell'Olimpiadi, un mondiale, tre uomini con tutto l'europeo e poi come Arco e Fosport anche lui è iniziato a votare a Mediano a Veneto per vincere tutto! Un grande applauso all'Emilia Romagna! E il team Arco e Fosport viene presentato da Emanuele Ammertini, che la scherma è Lorenzo Malacantonini nel calcio, con l'amico di Arco e Fosport si allunga punito! Noi siamo qui a Toscana e Martina Caglioni al suo esordio alle Paralimpie di Londra, ha già subito fatto il trono mondiale dei 100 metri e non si è più fermata ora a Londra, sui 100 metri piani, ha vinto un sacco di gare, due puteri del mondo nei 100 e nei 200, grande amica di Arco e Fosport, nessuno si direi può dire di vincere il mondo con una gamba sola! Vai Martina! E anche qui Arco e Fosport presente con Claudia Munari, Sce e Daya Mercurio a cavallo, anzi stasera a cavallo l'ha stata a casa! E poi l'amico di Arco e Fosport, Tommaso! E poi abbiamo Bruno Cerella, che è il capitano della Lazio, salutiamo gli amici del Lazio, Bruno gioca con l'Olimpia a Milano, ha vinto lo scudetto l'anno scorso, ha segnato anche con il progetto Slams Dumper, la palla per l'espo e la solidarietà! Molta spettacolare Giaglina, campionessa di sorrisi e Simone Ballanti della storia italiana, Triatron! Andiamo a salutare anche la Sardegna, eccola qua la Sardegna, la Simona Azzori, più che una ballerina, sino un'arte dance company, è una fittrice, è una scrittrice, è un artista a livello mondiale, Simona è la straordinaria capitana della Sardegna, forza ragazzi! Grazie!